Mai o mai destini, anticipazioni 25 e 26 ottobre, commediche ancora latitante, trova Zeynep e la rapisce. A casa, Gemile è tormentata dalla crescente ansia per suo fratello Magdi, mentre Nu cerca di lenire il suo turbamento, offrendole una spruzzata di speranza. Gemile è ancora incapace di comprendere come Magdi si è finito in quella difficile situazione, e implora Nu, di essere il suo sostegno. Dopo la tragica perdita di Mujgan, il pensiero di dover affrontare un'altra possibile tragedia con suo fratello la atterrisce. La loro conversazione viene bruscamente interrotta dall'inaspettato arrivo di Benal, che ignora completamente i problemi di Magdi e si presenta a casa di Gemile in cerca di aiuto. Benal spiega che la sua gravidanza sta rivelando complessità inaspettate, le ultime settimane di gestazione dovranno essere trascorse in completo riposo, e non avendo altre persone di cui potersi fidare, ha deciso di rivolgersi a Gemile, l'unica in cui ha ancora fiducia. Sebbene Gemile non sia ancora pronta a rivelare la difficile situazione di Magdi, decide comunque di accogliere Benal e prenderla sotto la sua ala protettiva. Benal è profondamente addolorata per la tragica morte di Mujgan e con commozione confida a Gemile che intende chiamare sua figlia con il nome della sua amata sorella, in memoria della donna che l'ha sempre sostenuta. Zeynep si sforza di confortare e assistere Baris, desiderando sinceramente ricambiare tutto il sostegno che lui le ha sempre offerto. Vedendo la difficile situazione familiare di Baris, Zeynep propone di tornare a casa sua per cercare di ristabilire un legame con suo fratello Savas. Baris, tuttavia, preoccupato per il temperamento volatile di Savas, nutre timori riguardo alla presenza di Zeynep e il possibile peggioramento della situazione. Nonostante le iniziali esitazioni, alla fine accetta il piano di Zeynep e insieme si dirigono verso la sua casa. Nel frattempo, Magdi, in cerca di aiuto e sostegno, si reca da Nasli. Disperatamente, le chiede del denaro, poiché ha dovuto abbandonare tutto nel suo negozio mentre fuggiva dalla polizia. Nasli, senza esitazioni, acconsente a fornirgli il supporto finanziario di cui ha bisogno e lo esorta a stare lontano da Zeynep, credendo che lei sia la causa dei suoi problemi. Magdi, tuttavia, è determinato nelle sue intenzioni e, una volta ottenuti i soldi, se ne va. Tornati a casa di Baris, Zeynep ha già elaborato un piano per avvicinarsi a Savas. Si introduce nella camera di Savas, fingendo di essere ignota a Baris. Savas reagisce inizialmente con rabbia, urlando e cercando di scacciarla, chiamando insistemente suo fratello per cacciarla fuori. Tuttavia, la calma di Zeynep lo induce a calmarsi e, dopo le prime divergenze, Zeynep gli racconta della sua fuga dal suo ex marito e di come sia stata accolta in casa sua, grazie all'aiuto di Baris. In breve tempo, Zeynep lo convince che ha bisogno di un posto sicuro in cui nascondersi, e che la sua camera è l'ideale, dato che Savas con il suo comportamento allontana chiunque. Savas sembra gradualmente tranquillizzarsi e inizia a mostrare interesse per la storia di Zeynep. Così, Zeynep inizia a raccontare la sua vita, condividendo la storia della sua infanzia, della sua complessa famiglia con due madri e del suo costante senso di inadeguatezza, sottolineando come Baris l'abbia aiutata. I due sembrano sviluppare un'intesa e Savas mostra una crescente preoccupazione per la situazione di Zeynep, esortandola a rimanere il più lontano possibile dal suo ex marito. Passando del tempo insieme, Zeynep riesce a tranquillizzare Savas, mentre Baris, nascosto dietro la porta della stanza, è colpito dalla sua empatia e dal suo ottimismo ritrovato. Nel frattempo, a casa di Zeynep, Sakine continua a insistere con Hermine affinché le riveli dove si trova sua figlia. Sakine è agitata, preoccupata che sua figlia sia in compagnia di Baris, a quest'ora tarda, temendo le possibili conseguenze sulla relazione tra lei e Megdi. Sultan è presente nella discussione e cerca di tranquillizzare Sakine, mentre Emine sostiene che Baris sia un ottimo partito per Zeynep. Dopo vari tentativi di giustificare Megdi, Nermin alla fine non riesce più a sopportare l'atteggiamento di Sakine, e la incita a guardare il video in cui Megdi distrugge l'auto di Zeynep. Forse Sakine non ha ancora compreso appieno chi sia veramente Megdi. Ma Nermin spera che dopo aver visto il video possa cambiare idea e smettere di dare la priorità al matrimonio della figlia piuttosto che alla sua sicurezza. Nel frattempo, a casa di Baris, l'incontro tra Zeynep e Savas procede in modo positivo, tanto che Zeynep riesce persino a convincerlo a cenare insieme a loro. Su consiglio di Zeynep, infatti, Baris ha organizzato un barbecue in giardino, dando così a Savas la possibilità di trascorrere del tempo all'aperto. Nel frattempo, Sakine è finalmente pronta a guardare il video che Nermin le ha dato. Inizialmente, aveva minimizzato l'accaduto, considerandolo un semplice atto impulsivo contro un'auto. Tuttavia, una volta visto il video, rimane completamente sconvolta. La furia di Megdi verso l'auto di sua figlia, la sua ferocia nell'abbattere ogni cosa, la fanno riflettere su ciò che Megdi potrebbe fare effettivamente a sua figlia. Profondamente sconvolta e tormentata dai sensi di colpa per non aver compreso prima il pericolo che aveva posto davanti alla figlia, Sakine si abbandona a un pianto isterico. Maledicendo se stessa per aver sostenuto Megdi nell'insistere e nell'accontentarlo per cercare di riconquistare Zeynep. Nel frattempo, la cena a casa di Baris procede a meraviglia. Zeynep riesce a mettere a proprio agio tutti, compreso Savash, tanto da convincerlo a prendere le medicine che aveva rifiutato per giorni. La presenza di Zeynep a casa di Baris ha riportato un momento di serenità, almeno per quella sera, e ha avviato il processo di riavvicinamento tra i due fratelli. A casa di Megdi, l'ansia di Gemile cresce ulteriormente a causa di un evento improvviso. Una finestra della casa viene rotta da un sasso lanciato da qualcuno. Gemile e Noh si precipitano fuori per scoprire che l'autrice di questo gesto è Sakine. La donna, dopo aver visto il video in cui Megdi distrugge l'auto di Zeynep, si è presentata a casa di Megdi nella speranza di trovarlo lì per affrontarlo. Una Gemile sconvolta inizia a urlare contro un'altrettanto sconvolta e arrabbiata Sakine. Sakine ha finalmente capito di aver sbagliato nel proteggere e giustificare Megdi, e ora vuole affrontarlo e ottenere delle spiegazioni. Noh cerca di calmare le donne, ma con scarso successo. Sakine intima loro di dire a Megdi di non avvicinarsi mai più a sua figlia. Byram assiste anche alla scena e, dopo che Sakine se ne va, la segue, scusandosi con Gemile e Noh. Tornati in casa, Noh e Gemile rimangono sconvolti, trovando Megdi nascosto nell'oscurità. Subito cercano di convincerlo a costituirsi alla polizia per risolvere la situazione il prima possibile e non aggravare la sua posizione. Megdi, tuttavia, è ancora convinto di poter rintracciare Zeynep e spiegarle le sue ragioni. Gemile crede fermamente di poter persuadere suo fratello a ragionare e lo lascia andare da solo in bagno. Rimasti soli, Noh cerca di convincere sua moglie a chiamare la polizia e cerca anche di farle capire che ormai è impossibile far ragionare Megdi. Nel frattempo, Megdi si è chiuso in bagno, e Noh si rende conto che potrebbe essere scappato di nuovo. Un sospetto confermato quando sfonda la porta del bagno e vede la finestra aperta, dalla quale il suo amico è effettivamente fuggito. Sakine e Byram si fermano in un parco per parlare. Qui, Sakine si apre sinceramente con suo marito. Ha sempre incolpato lui per le loro difficoltà, ma ora si rende conto di essere altrettanto colpevole quanto lui. Ha scelto un uomo cattivo e pieno di difetti come padre dei loro figli e non lo ha lasciato quando avrebbe dovuto. Questo ha distrutto la loro famiglia, rendendo infelici i loro figli e facendoli perdere il loro affetto. Il suo atteggiamento passivo, verso gli uomini violenti l'ha portata a credere che Megdi fosse l'uomo giusto per Zeynep, e così ha affidato la sua unica figlia rimasta, a un uomo che non conosceva e che si è rivelato essere un pericolo per lei. Dopo aver visto quel video, infatti, Sakine ha riconosciuto la stessa rabbia nel volto di Megdi che aveva visto nel volto di Byram quando lui la picchiava, insieme ai loro figli. Per Sakine è giunto il momento di smettere di affidarsi e giustificare gli uomini. D'ora in poi, proteggerà la sua figlia con tutte le sue forze e abbandonerà il suo atteggiamento vittimistico e codardo. Nel frattempo, a casa di Baris, l'uomo esprime ancora la sua preoccupazione per la sicurezza di Zeynep, e decide che trascorreranno la notte svegli, poiché teme che Megdi possa ancora rintracciarla. I due si sistemano quindi in salotto per guardare un film, cercando di restare svegli per proteggersi a vicenda. Sakine torna finalmente a casa e trova Nermin. Le due donne si confrontano per la prima volta in modo pacifico ed empatico. Sakine ha finalmente compreso i suoi errori e riconosce che Nermin aveva sempre ragione. Le spiega che aveva cercato solo di proteggere Zeynep, credendo che si amasse veramente Megdi. I due avrebbero dovuto rimanere uniti per evitare che la figlia fosse triste a causa della loro separazione. Ora, però, ha capito che nonostante l'amore che li univa, Megdi è un reale pericolo per Zeynep. Le due donne parlano anche della vita di Sakine, delle esperienze che l'hanno portata a credere che gli uomini fossero fondamentali nella vita di una donna. Sakine racconta dell'esempio paterno positivo che ha avuto, di come suo padre, nonostante la povertà, si sia sempre sacrificato per il bene della famiglia. Questo l'aveva portata a pensare che un padre di famiglia fosse genuinamente interessato a sostenere la propria famiglia. Un errore che aveva commesso sia con Vairam sperando che lui si prendesse cura di lei e dei suoi figli, sia con Megdi, credendolo un uomo responsabile e onesto. Nermin, questa volta, non giudica Sakine, ma le offre il suo pieno sostegno e propone di rimanere sempre unite per proteggere e rendere felice Zeynep. La loro figlia, che ora più che mai ha bisogno del sostegno di entrambe. Nel frattempo, Zeynep e Baris trascorrono una serata piacevole e tranquilla. Baris riceve una chiamata dalla sorella, quindi Zeynep si sposta in cucina per preparare il caffè. Tutto sembra tranquillo, finché Megdi, emergendo dall'ombra, appare improvvisamente. Zeynep rimane paralizzata e non ha nemmeno il tempo di chiamare Baris, perché Megdi la ferma e le preme sulla bocca un panno bagnato con un tranquillante per immobilizzarla e farla tacere. Zeynep sviene tra le braccia di Megdi, che si scusa con lei, ma ha ormai messo in atto il suo piano. Sembra che Megdi stia cercando di rapire Zeynep. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.